Buongiorno a tutte e tutti. L'obiettivo di questo video è quello di mettere chi sta ascoltando nelle condizioni di utilizzare il progetto SpicePyBot. Che cos'è questo progetto? Questo progetto è un bot di Telegram basato sul progetto SpicePy di cui abbiamo parlato già in un precedente video. Clicchiamo sulla pagina di questo progetto. Questo progetto ha un codice ovviamente. Il codice è scritto in Python ma l'obiettivo di oggi non è certo quello di vedere il codice e non è quello di usare il codice. Questo codice viene eseguito in continuo su un server remoto a cui chiunque può accedere tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Questa pagina è utile perché se uno non ha idea di che cosa sia Telegram e non ha idea di che cosa sia un bot va sulla wiki e sulla wiki c'è un minimo di introduzione di spiegazione di che cos'è Telegram che per capirci è un'applicazione molto simile a Whatsapp ma con più potenzialità e a questo punto una volta aperta questa chat per configurare il bot ciò di cui parliamo in questo video la prima cosa da fare è cercarlo tra la lista dei contatti. Esiste un tastino cerca e si digita il nome del bot e dopo un po' comparirà il bot tra la lista dei contatti. Vediamo di farlo assieme e qui vi metto questo è il mio smartphone qui avete sostanzialmente l'applicazione Telegram e questa qua azzurrina con una frecciolina. Se io clicco lì ho aperto Telegram ho già cercato il nome del bot come vedete ho scritto Spice Pie e poi ho iniziato con la lettera B e è comparso il nome del bot. Se io clicco sul bot sostanzialmente lo aggiungo ai miei contatti e ciò che succede è questo mi si apre una chat una chat che io posso avviare oggi vedremo le cose basi cioè la configurazione di base e come è possibile impostare il bot in modo tale da utilizzarlo. In un video successivo poi andremo proprio a parlare di come si simulano i circuiti. Dunque se premo sul tasto avvia che vedete lì in basso viene avviato il comando Start. Tutte quelle cose che iniziano con la slash sono dei comandi e a questi comandi ci si può accedere dal menu c'è un menu lì in basso a sinistra dove se uno clicca c'è tutta una lista di comandi. Quelli che vediamo oggi sono Start, Help e Netlist. Vado a cliccare anche sul comando Help così li vediamo tutti e due. Sostanzialmente il comando Start che è stato richiamato semplicemente all'avvio del bot spiega che questo bot è in grado di risolvere dei circuiti lineari e utilizzando il comando Help sarà possibile leggere una guida. Esiste un tutorial completo di questo bot a cui possiamo accedere cliccando sulla parola tutorial. Proviamoci. A cosa accediamo? Banalmente stiamo accedendo allo stesso sito web che vedete sotto il mio telefono dove però io non ve l'ho fatto vedere esistono anche delle informazioni su come si utilizza il bot. Quindi qua oltre alla configurazione ci sono anche delle informazioni su come poter utilizzare questo bot da telefono. Direi che possiamo andare oltre perché alcune di queste cose ve le farò vedere direttamente io. Nel comando Help vi viene detto che questo progetto è basato sul progetto SpicePie di cui vi si dà il link della documentazione e degli esempi. Quindi se voi cliccate sulla documentazione si apre la documentazione di SpicePie di cui abbiamo parlato in un precedente video. Quindi che cos'è una netlist, come si eseguono le analisi e così via. E poi ci sono anche gli esempi con tutta una serie di circuiti di cui è stata come dire realizzata qui una netlist e lo ripeto stiamo visualizzando la documentazione del progetto SpicePie. Quel progetto che per essere utilizzato richiede l'esecuzione di un codice python. Ma siccome il nostro bot è basato su questo progetto tutto quanto voi leggete nella documentazione del progetto SpicePie funziona anche nel bot. Vediamolo. Questo circuito, su cui non mi dilungo ma corrisponde a questa netlist, se viene simulato col progetto SpicePie e quindi eseguendo questo codice, vi fornirà questo risultato. Proviamo a replicare questo risultato senza doverlo per forza commentare con il nostro bot. Niente di più semplice. Andiamo a copiare la netlist. Qui lo vedete che quando ho cliccato sulla netlist mi si dà la possibilità, semplicemente schiacciando su quei due quadratini, di copiare la netlist. Quindi ho copiato negli appunti la mia netlist. Torno sul bot, che è un'applicazione di messaggistica e quindi prevede la possibilità di scrivere un messaggio al nostro bot. Se dobbiamo scrivergli una netlist, dobbiamo avvisarlo con il comando slash netlist. A questo punto lui ci dice va bene, mandami la netlist in un unico messaggio. Siccome ce l'abbiamo in memoria, vado ad incollarla. Qui sostanzialmente vedete in chat la netlist di cui prima. Se vado a copiare questo, lui intanto mi fa un riassunto della netlist che gli ho spedito. Questa cosa è utile in un contesto che vedremo successivamente in un altro video. Poi mi ricorda che tutti i componenti sono analizzati in convenzione degli utilizzatori. E infine mi restituisce come risultato tensione corrente e potenza per tutti i componenti che sono presenti nel circuito. Ora possiamo osservare che questa soluzione coincide con quella che ci forniva, in una forma leggermente differente, il progetto SpicePie. Diciamo che le informazioni di base di questo video sono concluse. L'ultima cosa che vi faccio vedere è che Telegram può essere installato non solo su uno smartphone ma anche su un tablet o su un pc e ognuno di questi dispositivi può essere utilizzato indipendentemente l'uno dall'altro. Pertanto tutto quello che noi abbiamo appena osservato sul mio smartphone, che vedete di qua, è stato perfettamente replicato su Telegram installato sul mio pc. Vi dirò di più. Se io adesso copio questo messaggio, quindi copio questa netlist e ripeto l'analisi, ma la ripeto su il software Telegram che vedete qui sulla destra, che è installato sul mio pc, quindi vado qui dove c'è questo slash netlist, richiamo questo comando, appena l'ho richiamato vedete che compare anche sul mio telefono di qua. Copio la netlist e a questo punto invio questo messaggio. Contestualmente lo vedete anche sul mio telefono, ok? Di qua vedete il risultato sul mio pc, di qua vedete il risultato sul mio telefono. Quindi a seconda dei casi potrebbe essere utile utilizzarlo su telefono, su pc, su tablet e quindi questa è la configurazione di base per essere nelle, diciamo, condizioni di utilizzare il bot. Nel prossimo video vedremo come si simula una rete in corrente continua e come si interpretano correttamente i risultati.